Cari amici, da ieri 2 maggio il nazismo è ritornato in Europa. A Odessa 46 russi ortodossi di religione sono stati trucidati da un'orda nazista con metodi nazisti, gli stessi che le armate di Hitler usarono contro le popolazioni della Bielorussia per esempio nella seconda guerra mondiale, rinchiudendo interi villaggi dentro fienili per poi dare loro fuoco e sparare su quelli che potevano forse uscirne vivi. La stessa identica cosa è accaduta ieri a Odessa, dove centinaia di persone sono state costrette, disarmate, a rifugiarsi nel palazzo dei sindacati che è stato incendiato dai nazisti. non hanno potuto uscire, 46 morti e altre decine che hanno cercato di fuggire sono stati bastonati, colpiti e quelli che si affacciavano alle finestre sono stati fatti oggetto di sparatorie. Tutto questo è dimostrabile e visibile da centinaia e migliaia di schermi televisivi. L'Occidente, gli Stati Uniti e l'Europa che di questa situazione sono direttamente responsabili stanno cercando di distorgere i fatti e gli eventi. E noi siamo parte di questa parte involontaria, di questa mostruosa menzogna. Noi siamo membri della Nato e siamo alleati degli Stati Uniti d'America, che sono i principali diretti responsabili di ciò che sta accadendo nell'Ucraina sudorientale. Possiamo tacere? Io penso che se tacciamo saremo complici. Penso che il tempo a disposizione non è molto. Nelle prossime settimane, forse nelle prossime ore, ci sarà altro sangue. Saremo protagonisti probabilmente, mi auguro di no, di uno sviluppo ancora più drammatico di quello che già sta accadendo. Pandora TV propone di costruire una risposta. Non so se ci riusciremo, ma forse abbiamo creato Pandora TV proprio per questa occasione, sapendo che sarebbe venuta. Una risposta collettiva. Il 18 maggio del 2014. È una domenica. Vediamoci tutti a Roma, decideremo dopo, come, dove. Vediamoci tutti a Roma, per sfilare o anche per stare fermi in silenzio, con una fascia nera in segno di lutto, per cancellare la vergogna di questa Europa senza vergogna, di cui siamo parte. Seguiteci nei prossimi giorni. Cercheremo di costruire una risposta collettiva. È un bisogno. Una necessità ineliminabile. E buon viaggio a tutti intorno al sole.